La situazione all'interno del centro è veramente complicata anche da spiegare. Noi come rappresentanti ai laboratori ce la stiamo mettendo tutta, ce l'abbiamo messa e continueremo a mettercela tutta per provare a tenere questo centro aperto. C'era stato uno scambio politico tra noi e la regione attuale affidatario del centro dove bisognava garantire la continuità. Da una parte l'apertura al pubblico col servizio che offre questa struttura e dall'altra la continuità occupazionale. Qualcuno ha tradito questi affidamenti e se ne deve prendere assolutamente la responsabilità. Stiamo organizzando una grande mobilitazione perché la cittadinanza, tutti i lavoratori, le istituzioni devono sapere che questa struttura deve rimanere assolutamente aperta e che è nell'interesse di tutti. Insieme ai lavoratori nell'assemblea di oggi abbiamo deciso intanto di uscire con un comunicato stampa che vuole essere anche un comunicato alla popolazione, agli utenti, ai cittadini dove noi spieghiamo e raccontiamo in estrema sintesi quello che sta succedendo. Anche la resistenza stoica che stanno mettendo questi lavoratori che sono mesi che non percepiscono la retribuzione eppure stanno garantendo con loro lavoro e hanno garantito fino ad oggi con loro lavoro l'apertura di questo centro. Contro tutto e tutti. Dopo questo comunicato stampa chiameremo le istituzioni, organizzeremo un grande presidio, è da decidere insieme ai lavoratori dove e chiederemo che chi ha la responsabilità di tenere aperto questo centro continui a lavorare perché questo venga fatto.